Tersa parte della sedicesima lezione per l'insegnamento di metodi matematici per l'ingegneria. Ecco che siamo pronti adesso ad enunciare con precisione il teorema di inversione per la trasformata di Laplace utilizzando quelle formule che abbiamo ricavato prima e specificando sotto quale ipotesi è garantita la validità. Quindi sia F di T un segnale L trasformabile e supponiamo che sia regolare di classe C1 a tratti. Sappiamo cosa vuol dire, l'abbiamo visto la volta scorsa, ovvero vuol dire che esiste una sequenza di istanti xk tali che x con 0 lo prendiamo sempre uguale a 0 e poi dopo gli altri istanti formano una sequenza strettamente crescente quindi xk è sempre minore di xk più 1 e così via. In più chiediamo che xk più 1 sia sufficientemente distante da xk, almeno di una quantità, esiste anche un passo delta positivo tali che questi intervalli sono lunghi almeno delta. In questo modo non è garantito che non si accumulano in un punto finito ma vanno avanti fino all'infinito. e questi sono i punti dove è ammesso che la F eventualmente possa non essere regolare. Però chiediamo che esistano i limiti destri e sinistri nei punti xk sia per F che per F' quindi esistono i limiti per T che tende a xk sia da destra che da sinistra di F di T, questo è quello che chiamiamo F di xk destro o sinistro e anche il limite sempre per P che tende a xk da destra o da sinistra della derivata F' di T e questo sarà il valore della derivata destra o sinistra nei punti xk. Questi valori esistono quindi esistono finiti, quindi ammettiamo discontinuità di tipo salto nei punti xk e anche la derivata non scoppia, eventualmente possiamo avere dei punti angolosi ma non dei punti di cuspide, non dei punti di tangente verticale. Ok, quindi per la classe dei segnali regola C1 a tratti è garantita la validità della funzione inversa di Laplace. Ah, un'altra cosa, per avere la validità della formula inversa di Laplace in ogni punto chiediamo inoltre che sia F un segnale regolarizzato nel senso che F nel punti xk coincide col valore medio del limite destro e sinistro, quindi xk più F di xk meno, quindi dove abbiamo dei salti il valore del segnale nel punto di salto lo mettiamo esattamente a metà fra il limite destro e il limite sinistro, quindi se abbiamo un segnale che ha un certo limite da una parte e dall'altra, in realtà il valore che assume in quel punto è esattamente il punto medio è esattamente il punto medio fra i due valori destri e sinistri, quindi qui avremo F di xk più, qua avremo F di xk meno, xk è l'ascissa del punto, e questo è esattamente il punto medio, il valore di f di xk. Per esempio, per la funzione di heavy side, l'abbiamo visto prima, da una parte abbiamo 0, da una parte abbiamo 1, dall'altra parte abbiamo 1, il valore regolarizzato è esattamente il punto medio, 1 mezzo. Quindi se abbiamo un segnale regolare a tratti, renderlo regolarizzato significa modificarlo solo nei punti di discontinuità, i punti di discontinuità sono al più numerabili e quindi stiamo modificando la funzione in un insieme di misura nulla, quindi trascurabile ai fini dell'integrale. Ecco, sotto questa ipotesi qui, quindi segnale L trasformabile c1 a tratti regolarizzato, allora abbiamo che quando facciamo l'antitrasformato, cioè facciamo il limite per L che tende a più infinito di 1 su 2 pi greco i integrale da alfa meno il, alfa più il della trasformata di Laplace di f calcolato in z moltiplicato per e alla zt in dz, questo è un integrale corvilineo lungo il segmento che congiunge questi due punti, questo qui mi ricostruisce perfettamente il segnale f di t per ogni t, sotto l'ipotesi che la scissa alfa ovviamente sia maggiore della scissa di convergenza di f, allora quindi per alfa maggiore della scissa di convergenza del segnale f vale la formula di inversione esattamente come l'abbiamo definita nelle sezioni precedenti. Quello che stiamo dicendo è che l'operatore inverso di Laplace applicato alla trasformata di Laplace di f mi ricostruisce f, quindi possiamo dire che l'operatore inverso di Laplace composto con la trasformata di Laplace mi dà l'identità sui segnali del tipo che abbiamo detto, cioè l trasformabili c1 a tratti e regolarizzati. La dimostrazione di questo fatto la rimandiamo dopo che avremo trattato la trasformata di Fourier. La dimostrazione la vedremo dopo aver trattato la formula di inversione che faremo anche per la trasformata di Fourier. Perché? Perché c'è un legame stretto che vedremo più avanti fra la trasformata di Laplace e la trasformata di Fourier e risulta molto più semplice ottenere l'inversione di Laplace una volta che abbiamo la formula di inversione di Fourier. Quindi abbiate pazienza ci arriveremo e faremo anche quella. Intanto abbiamo visto già degli esempi che giustificano questa formula abbastanza, diciamo, in modo abbastanza convincente. Qual è una conseguenza immediata di questo teorema? Per esempio è l'iniettività della trasformata di Laplace. cioè che due segnali con le ipotesi che abbiamo enunciato se hanno la stessa trasformata di Laplace allora necessariamente devono coincidere. Quindi diciamo così, se F e G sono due segnali che che sono L trasformabili, che sono regolari C1 a tratti e regolarizzati nei punti di discontinuità, allora, quindi siano F e G due segnali trasformabili e regolari a tratti e regolarizzati, allora se la trasformata di Laplace di F coincide nel punto Z, coincide con la trasformata di Laplace di G nel punto Z. Per ogni Z che sta nella palla di centro Z0 e raggio R e supponiamo che questa palla sia contenuta nella regione degli Z complessi, tale che la parte reale di Z sia maggiore del massimo tra l'ascissa di convergenza di F e l'ascissa di convergenza di G. Dopo queste premesse, allora, sappiamo che le trasformate di Laplace, delle due segnali, coincidono anche su una pallina piccola, comunque con raggio positivo, contenuta nei semipiani di convergenza di entrambi i segnali, sia che necessariamente F di T è uguale a G di T per ogni T. Quindi due segnali, se hanno la stessa trasformata di Laplace, devono coincidere. Non ci possono essere segnali diversi che producono la stessa trasformata di Laplace. La dimostrazione adesso è abbastanza semplice, sfruttando le proprietà delle funzioni olomorfe. Se noi abbiamo nel piano complesso due funzioni che sono olomorfe in un semipiano, supponiamo che questo sia il punto di assista sigma, dove sigma lo poniamo uguale al massimo tra sigma F e sigma G. Abbiamo le nostre funzioni che sono olomorfe nel semipiano a destra di sigma. Se per caso c'è un punto Z0 e un suo piccolo intorno, tutto contenuto in questo piano, dove su questo intorno abbiamo che le trasformate coincidono, siccome sono analitiche per il principio di continuazione unica delle funzioni analitiche o il principio del prolungamento analitico, chiamatelo come volete, principio di continuazione unica o prolungamento analitico. Una funzione olomorfa si può prolungare in modo analitico in modo unico e quindi se due funzioni olomorfe coincidono su un intorno o comunque su un insieme che contiene punti di accumulazione, allora necessariamente non può essere prolungata in due modi diversi in modo olomorfo. Quindi ne segue che le due trasformate di Laplace, che sono entrambe olomorfe, devono coincidere su tutto il semipiano ReZ maggiore di sigma. Quindi se coincidono su tutto il semipiano coincidono anche in particolare su una qualsiasi retta verticale. E quindi cosa abbiamo? Su questa retta verticale noi andiamo a calcolare la nostra antitrasformata, quindi abbiamo che il segnale, supponiamo che α sia l'ascissa di questa retta, abbiamo che f di t coincide con 1 su 2 pi greco i il limite per L che tende all'infinito dell'integrale da α meno IL ad α più IL della trasformata di Laplace di F calcolata in Z per e alla ZT dz, ma la trasformata di Laplace di F coincide con la trasformata di Laplace di G, quindi questo è 1 su 2 pi greco i il limite per L che tende all'infinito dell'integrale da α meno IL, α più IL della trasformata di G. Perché su tutta la retta le due trasformate coincidono, ma questo mi ripostuisce il segnale G. Fine, ecco. Quindi vedete il teorema di inversione è anche un teorema che ci garantisce l'iniettività della trasformata. E quindi questo ci può dire che se noi sappiamo che un certo segnale ha una certa trasformata, ogni volta che vediamo quella trasformata sappiamo che proviene da quel certo segnale e non da altri.